Qual è il miglior passaggio della tua vita? Sì, è sicuramente una sorpresa. Iniziamo con un po' di struttura in pace, ma sono molto felice che la squadra ci sono stati insieme. E' un'ottima squadra, è il migliore squadra che ho mai avuto, e voglio stare con loro per molto tempo. Credo che hanno fatto un miglior lavoro questa settimana. E' sicuramente il miglior passaggio che ho avuto per molto tempo. All'inizio, all'inizio finale, potete aspettare di vincere prima di iniziare? Avete già avuto la possibilità? o hai capito che hai capito? I nervi sono sicuri prima prima di iniziare, ma la squadra mi ha detto che ho avuto la possibilità, quindi ho avuto l'accordo, ho fatto tutto quello che hanno detto, e ho avuto tutto quello che hanno detto. Hai una strategia prima di iniziare, oltre a stare calma dietro i due toni, oltre a vincere? Oltre a vincere la vincere? Sì, abbiamo avuto una varietà di plani, l'altro è stato iniziato, l'altro è stato iniziato, ma ho avuto la possibilità, quindi abbiamo avuto il miglior passaggio, e tutto funzionato. Sei il leader del campeonato, oltre a vincere la vincere? Ovviamente è bello per vincere, ma la vincere è enorme, e vorrei fare bene. Questa settimana ha stato un grande aiuto per la vincere, ma mi piace di vincere, quindi è stato un ottimo weekend. Grazie! Grazie!